bello a tutti ragazzi bentornati sul canale di genetik di nea eccoci qua finalmente con life is strange andiamo a scoprirlo insieme questo titolo della donna allora io ho già fatto più o meno un qualche setting veloce non l'ho provato mi affido delle mie schede grafiche siamo su pc ovviamente quindi assalutaggio 1 nuova partita scegli con cautela infarto 1 dove sono io? cosa sta succedendo? sono in una storm? come sono arrivato qui? e dove è qui? ok dobbiamo raggiungere quel faro wow allora vediamo un po' sono in mezzo con il temporale portuto non so se passò qui qui si Ok, sono in classe, tutto è cool, sono ok. Sì, sono in classe, da color, da chiaroscuro. Ora, potrei dare un esempio di un fotografo che capisce la condizione di humana in Black and White? Non mi sono dormito, e questo non mi sembrava come un sogno. Dianne Arbus. Ci sei, Victoria. Perché Arbus? Perché di sua immagini di faccia di sperimentale. Guarda questa roba, come posso mostrare questo a Mr. Jefferson? Posso sentire la classe che mi ha riuscita a me ora. Oh, è vero. Allora, ah... Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Non mi sentirebbe mai con il mio giornale come potremmo. Non mi sentirebbe di capire a te in un momento di desperazione. E nessuno di voi potrebbe fare questo a me. Non mi credo ancora che ho questo penzillato. Ok, ma forse si mi faccio una fatta. Ehm, ok, eh... Ah, fichissimo. Praticamente qua c'ho tutte le... Ok, è veramente immenso. Cioè, queste qua me le leggerò poi con calma. Sennò veramente... Il gameplay diventerà veramente un casino. Ehm... Wow. Ma che roba storia te... C'è... C'è... C'è un casino di roba qua d'accordo. C'è un casino di roba per provare che sia qui. A più, è perfetto per il mio portafoglio. E devo ottenere il mio sottotitore di un'occhiata di un'occhiata di un'occhiata di un'occhiata. Ok. E c'è un'occhiata di un'occhiata economica. Ma che ha un'occhiata. Non hai un'occhiata senza un'occhiata. Penso che Max ha fatto quello che voi chiamate un'occhiata. Un'occhiata per una tradizione fotografica. E Max... ha un'occhiata. C'è un'occhiata che è stato un'occhiata di un'occhiata di un'occhiata di un'occhiata. E lui, come si conosco, il portafoglio è stato un'occhiata di un'occhiata di un'occhiata. E lui, non è stato la prima di utilizzare immagini per la espressione di un'occhiata. Ma che non ho capito, non ho capito. Il punto è che il portafoglio è sempre stato un'acchiata di un'occhiata di un'occhiata e di un'occhiata. Per quanto riguarda la sua vita. Ma che, Max, se tu hai capito il nostro interesse e che chiaramente chiedeci la conversazione, e puoi, per favore, diciamo il nome del processo che ha dato il portafoglio ai primi portafogli. Ehm... Facciamola distratta, dai. Stai chiesto di me? Devo pensare. Ehm... ... 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 Ok, non è proprio una studentessa modello, però... Noi, 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 noi... Ok, ma non usano le... Io voglio farmi i cazzi suoi. Ah, ok, è una macchina fotografica. Ok, posso parlare con questa? Cucu. Cate sembra così triste e quieta oggi. Pagosa cosa. Ciao, Kate. Oh, ciao Max. Ti va un tè. Ok, allora... Cioè, no dai, adesso basta. Facciamo un po' di... È una specie di... Di Lightroom. Vabbè ragazzi, comunque molti di voi magari lo sanno, molti no, ma sono appassionato di fotografie anch'io da un annetto in questa parte. Ovviamente, vabbè, ho iniziato con una reflex e questo programma somiglia moltissimo appunto ad Adobe Lightroom che uso per sviluppare i RAW. Ok, allora, adesso vediamo un po' se riesco a farmi un po' che cazzo è di questa stronzetta qua. Uh... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Mmm... I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Ok, vediamo un po' qua cosa c'è. Allora. You can never escape the lighthouse here. Ok. Immagine. Ok, vediamo un po'. The forest around here always looks mysterious. Ok. Da quello che ho capito, bisogna veramente guardare un po' tutti i dettagli di questo titolo. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Eh... Dobbiamo partecipare a un concorso fotografico. Vabbè, io me ne vado. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always look. Welcome to the real world. You're just cute. Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how cute she is. I'm not paying for $50. She plays it so short. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. What's her? I hate that glass, it's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant fan. Life is Strange. Episodio 1 Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. American girls, I'd like to I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Okay, we have to go in the bathroom. Let's go here. I don't need a PC. I missed the poetry jam tryouts. And I did not steal that backpack. Maybe it's a little interesting, no? To all of you. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. No one can tell where your heart is. American girls like dollies. With shiny smiles and plastic buddies. I wish I had. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Okay. Okay. What should I do? What should I do? What is it? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Okay. Who is that? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. But no. But why? When the door closes, a window opens. Or something like that. Okay girl. You don't get a photo op like this every day. Oh, che bello. Vediamo se riesco a fare... Una foto alla far parla. It's cool Nathan. Don't stress. You're okay bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter as my step-ass would say. Now, let's talk business. I've got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family. Not me. Oh boo hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Oh, m***a! Whoa! What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. e poi ero qui, come si è vero. Ho già sentito questo discorso. Ora Cate è stato costruito di nuovo. E se il telefono del telefono di Victoria, questo è vero. Noi! Puoi daremi un esempio di un fotografo che non posso credere di questo. Ma dai! Ok. 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 Giusto o more. E adesso io posso andare in bagno praticamente perché il resto delle cose le ho già viste. Ah ma scusa. No, no. Ah ok, premi LP per annullare l'ultima azione riavolgendo il tempo Ma Ah ok, vabbè mi fa vedere praticamente Allora andiamo qua E parliamo Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you No, Victoria, excuse us I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture I'm on top of it I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans Max, you're on fire today All the right answers, good Make sure you finish working on it by today I have faith in you Cioè, questa cosa a scuola Ve la vedete, cazzo Cioè, no dai, che figata Ma sì Ah, ecco Run, run Run I don't even tease me You know I don't tease me You know I don't tease me I hate that science class with the water Okay, Max, retrace every step I washed my face I shredded my photo Then the butterfly flew in And I took a photo Leave them out of this bitch Get that gun away from me, psycho Holy shit, I can't let this happen Che cazzo Allora, facciamo una bellissima cosa Andiamo indietro Fino qua Okay Okay Don't ever tell me what to do I'm so sick of people trying to control me You are going to get in hella more trouble for this than drugs Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way Don't ever touch me again, freak Another shitty day That did not happen This cannot be real I just saw a girl get shot and then saved her What the fuck is going on? Do not freak out Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside I had to use the bathroom Girls always use that excuse Excuse for what? For whatever you're up to Your face is covered in guilt The alarm tripped me out Then trip on out of here, missy Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen The situation is under control There's no emergency here Leave Miss Caulfield alone And please turn off that alarm Since that's your job Uh, faccione di merda Hold on, Max Come back here You look a little stressed out Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future You're sweating pinballs Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max Talk to me Uh, what do we do? Do we denounce it? For the moment, no I just got sick in class Um, female travel Except you're wandering around Like a zombie And do you think that's the first time A student has used that line on me? It's the truth I felt dizzy in Mr. Jefferson's class Just tell me what you're hiding You can trust me There's nothing to hide I got sick It happens, you know There's that teen toot again You know, I've heard enough Don't think I don't know What goes on around here You've only been here for three weeks And you're already causing conflict I don't think your parents will approve when they find out Now get outside with class Please No, he does not buy that at all I may have just flushed my scholarship down the toilet Quasi quasi sapere cosa Quasi quasi Io torno indietro nel tempo You look a little stressed out Are you okay? I'm, I'm just a little worried about my future You're sweating pinballs Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max Talk to me I just saw Nathan Prescott waving a gun around In the girls room Nathan Prescott You sure? Yes He was in the bathroom talking to himself with a gun I saw everything He was babbling like crazy Okay, slow down, slow down So now you saw this Without him seeing you I was hiding behind a stall I have the right to be there It's the girls room I know, I know I just want to be completely clear what happened Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family And one of Blackwell's most honored students So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls bathroom So what happened next? Then Then he left I ran out here wondering what to do Are you going to bust him? This is a serious charge I'll look into the matter personally Thank you for bringing it to my attention That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield Of course this academic drone won't do anything Since the Prescott family owns Blackwell now Should I rewind and change my story? Hmm Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you Bene ragazzi Questo gameplay di Life is Strange lo facciamo finire qui Vi aspetto ai prossimi video Ciao a tutti da GeneticDNA Fatemi sapere cosa vi pare questo titolo Per ora non mi sembra molto male C'è tantissime scelte Vedremo Ciao a tutti